In 1600 se fossimo passati da questa zona del Lavone avremmo incontrato qualcosa che non esiste più il cosiddetto sasso del quadrone più che un sasso bisognerebbe parlare di un rudere tra l'altro piuttosto interessante in mezzo al fiume si trovavano infatti diversi blocchi di pietra locale il cosiddetto spungone che quasi sicuramente erano i resti di un antico ponte romano alcuni dicono addirittura un molo detto appunto del quadrone questo ponte fosse il primo attraversamento romano sul fiume pare sia crollato durante il medioevo e poi sostituito dallo storico ponte delle torri dove oggi troviamo il ponte delle grazie utilizzato anche come luogo di battaglie tra bande di ragazzini per secoli il rudere è stato sfruttato come cava di materiale già pronto all'uso e ancora oggi possiamo ritrovarne i blocchi lungo degli edifici nel corso massini come la chiesa del suffragio e probabilmente anche il basamento del palazzo mazzolani faenza in un minuto grazie a tutti